che non è assolutamente sentita, a differenza per esempio della riforma della giustizia. Noi nell'ultimo weekend abbiamo avuto, io ero al gazebo nella mia città a Rona, abbiamo avuto le code di persone che volevano firmare per il referendum della giustizia. Perché? Perché assolutamente sono anni e anni che si vede una giustizia non sempre giusta e si parla di riforma e mai il Parlamento, tutti i Parlamenti, sono riusciti a portare a casa una riforma. Allora la spinta dei referendum è fondamentale, la scelta della Lega di chiamare il popolo a firmare ha portato che in due soli giorni abbiamo 100.000 firme e stiamo andando avanti io credo che nel giro di due o tre settimane avremo raggiunto il numero di firme. Ma perché? Perché questa è una riforma sentita, fortemente sentita.